Ieri, 26 luglio 2020, a Ischia Ponte si sarebbe dovuta tenere l'88esima edizione della storica festa a mare agli scogli di Sant'Anna, edizione rimandata all'anno prossimo a causa del protrarsi della pandemia da coronavirus e delle conseguenze restrizioni sanitarie, ma nello straordinario scenario della Baia di Carta Romana, dove nello stesso giorno e nella stessa ora negli anni scorsi migliaia di barche erano assiepate per osservare la sfilata, l'incendio del maestoso Castello Aragonese e i fuochi d'artificio, ieri sera è andato di scena uno spettacolo più unico che raro, apprezzato da migliaia di residenti e turisti che l'hanno potuta ammirare da mare e da terra. Il passaggio dell'Amerigo Vespucci, il veliero della Marina Militare, costruito come nave scuola per l'addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell'Accademia Navale, è considerato la nave più bella del mondo. Il Vespucci, dopo aver circumnavigato tutta l'isola, giunto a Dischiaponte, seguito da decine di imparcazioni, ha spiegato le sue maestose 26 vele che d'improvviso si sono dipinte del tricolore italiano, mentre da bordo venivano diffuse in sequenza le note dell'inno nazionale Napulè di Pino Daniele e Blue Dolphin, la storica colonna sonora dell'incendio del Castello Aragonese che conclude ogni edizione della festa a mare agli scogli di Sant'Anna. Un passaggio storico, quello del Vespucci, seguito in diretta da Nuvola TV e che a largo del porto di Ischia ha visto un importante scambio di doni con il sindaco ischitano che ha regalato al comandante della nave scuola Il gagliardetto con lo stemma di Ischia, una pubblicazione sulla festa a mare agli scogli di Sant'Anna e del vigna dell'UM della casa vinicola Mazzella. È stata un'emozione unica, ha dichiarato il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, un vero orgoglio per l'intera isola di Ischia.